Buonasera a tutti, grazie di essere intervenuti all'auditorio di San Domenico per una importante occasione, quella di avere qui con noi Paolo Mieri, presentarlo è del tutto inutile perché lo conoscono ormai tutti quanti, oltre a leggerlo nei vari articoli giornali, nei più grandi giornali italiani, lo vediamo spesso anche in televisione, è una presenza rassicurante, una presenza solida e soprattutto una presenza non urlante, serena. E questo fa sì che le sue idee e le sue convinzioni siano apprezzate molto di più. E poi lo ricordo per quelle bellissime trasmissioni che fa alle 13.15 su Rai Storia, intitolate Il passato e il presente, recentemente qualche giorno fa era sulla battaglia di Stalingrado, dove c'era il barbario che diceva che la storia non insegna molto e questo lo diceva a proposito delle campagne di Russia. Io spero che la storia continua a insegnare è molto e il nostro relatore Paolo Mieri ce la sta insegnando e soprattutto ce la sta proponendo giorno per giorno in queste trasmissioni televisive che credo che siano una delle cose più importanti e belle che la Rai ha fatto in questi anni. Quindi io auguro a tutti una buona buon ascolto e passo la parola a Paolo Mieri. Grazie, grazie davvero. Stasera fra due o tre ore tornerete a casa e tornando a casa o in albergo le persone che sono qui accenderete meccanicamente il televisore, incapperete in un telegiornale e ascoltando le prime notizie del telegiornale sulle trattative di governo vi verrà uno sbotto d'ira, già lo so, perché è simile allo sbotto d'ira che vi è venuto ieri sera, la sera precedente e avrete l'impressione che sia sempre la solita zuppa ed è la solita da zuppa. Solo quelli che hanno ascoltato la relazione prima della mia, quella del professor Guido Tonelli, sono abituati, già allenati ai tempi di miliardi di anni della storia dell'universo e ritrovarsela in una crisi politica fa venire un nervoso maggiore. Siccome non ci sarà la mia presenza pacificatrice perché sto qui, vi verrà un doppio sbotto di ir ascoltando le notizie del telegiornale. Io sono qui oggi a provare a spiegare che questa cosa ha delle radici molto lontane, molto remote, non ne portiamo la colpa, non ne portano la colpa neanche i dirigenti politici che sono alle prese con questo problema perché l'Italia ha condizioni simili, non così gravi in termini istituzionali ma fin dalla sua Costituzione. Il titolo della mia relazione è Il caos italiano ed è anche il titolo di un mio libro e quello che provo a spiegare, provo perché non ho certezze, il mio metodo di un approccio progressivo cercando di capire perché, quello che provo a spiegare è che noi italiani abbiamo una particolarità che non è tanto quella di non saper stare insieme, non saperci unire ma di non saperci dividere, noi non conosciamo l'arte, probabilmente perché abbiamo dei problemi remoti che risalgono a migliaia di anni o comunque centinaia o un migliaio di anni prima della Costituzione dello Stato italiano nel 1861, noi abbiamo una grande diffidenza per quel momento che è sacrale in tutte le democrazie in cui ci si divide, ci si divide enormemente, alcuni vincono le elezioni e vanno al governo, quelli che lo perdono vanno all'opposizione e passano l'intera legislatura ridandosi forza per conquistare la maggioranza alle volte successive, questa è la norma, ovviamente ci sono delle eccezioni e le eccezioni sono nei momenti gravi, una guerra, la seconda guerra mondiale, una grande crisi economica, una crisi dovuta al terrorismo o una catastrofe naturale, quindi le eccezioni sono contemplate ma tutti i paesi dell'orbe terraqueo appena arrivano a un livello di civiltà democratica apprezzabile contemplano quello che vi ho detto prima, contemplano che il segreto è sapersi dividere, sapersi dividere comporta anche che poi la vita politica è fatta nella consapevolezza che oggi ho vinto io, domani vincerai tu, a me toccherà di perdere e che quindi le cose che dico si ritorceranno contro di me, le cose che dico una volta che ho vinto ma anche le cose che dico una volta che ho perso, è un costume che si introietta e che dà struttura a una società, struttura a un dibattito politico. Noi questa cosa non l'abbiamo avuta, a differenza di tutti gli altri paesi europei ma anche mondiali, non l'abbiamo avuta fin dall'inizio per il modo in cui è stata fatta l'unità d'Italia. L'unità d'Italia è stata fatta in un modo avventuroso ed eterogeneo, mi spiego, fino all'unità d'Italia come vi ho detto scatta nel 1860 dopo l'impresa dei Mila, a quel punto si rende quasi necessaria ma fino a pochi mesi prima la seconda guerra di indipendenza, nel 1859 nessuno pensava, pochissimi pensavano, solo alcuni pensatori più estremi a fare l'unità d'Italia, soprattutto nessuno pensava a farla nel modo in cui è stata fatta, si pensava tutto al più di fare una federazione di stati italiani, qualcuno voleva anche che alla guida di questa federazione fosse il Papa, il Papa Pio XII poi sarebbe diventato un grande nemico del risorgimento ma all'inizio nei primi due anni dopo il 1846 quando fu eletto sembrava appariva come un Papa liberale, era lui che guardavano fra il 1846 e il 1848 come la guida di uno Stato federale e poi dicevano uno Stato federale ma neanche ci credevano, lo stesso Piemonte, il Regno di Sardegna, concepiva l'Italia che voleva fare come un allargamento settentrionale, tutt'al più con alcune parti dell'Italia centrale ma soprattutto si indirizzava a prendere e a conquistare quella che era la parte che apparteneva all'impero austro-ungarico e lombardo-veneto. Non è una questione irrilevante questa perché ha comportato due o tre cose su cui vorrei fermassimo un attimo la nostra attenzione. Primo, Torino, città che fa l'Italia. Torino e il Piemonte erano date fino a un certo punto perché a dirci la verità gli altri regni che avrebbero dato vita all'Italia unita in alcuni casi erano più avanzati, avevano più tradizione. Torino e il Piemonte non avevano tutti i titoli per fare l'unità d'Italia. In parte che Torino, pensate, tutte le classi dirigenti del Piemonte di quegli anni, fine anni 50, sempre dell'Ottocento, inizio anni 60, parlavano francese, si scrivono francesi, erano nati quando Torino nel 1810, quando era nato Cavour, era francese, era sotto l'occupazione napoleonica ed era uno stato molto di confine con la Francia, ripeto, si parlava francese, la casa, la regione che dava il titolo, la casa regnante, la Savoia sarebbe finita proprietà della Francia, così come inizia. Insomma, era in una situazione complessa, i cui titoli e il cui grado di avanzamento di civiltà erano relativi, non che non ne avesse, ma il regno delle due Sicilie vantava una tradizione che solo in tempi recenti era degenerata, ma la tradizione borbonica, soprattutto nella seconda metà del Settecento, era una tradizione solida, il Lombardo Veneto era un fior di paese, era un fior di paese con tutte le sue autonomie, il Gran Ducato di Toscana anche e persino lo Stato Pontificio aveva dei suoi punti di forza, tant'è che si pensava di metterlo a capo di questa federazione, ma queste erano chiacchiere. La verità è che nella percezione degli italiani il momento di fare l'Italia fu inventato nel giro di pochi mesi, a cavallo fra il 1859 e il 1861, con due o tre caratteristiche su cui anche questo merita di fermarsi. Primo, che la stragrande maggioranza dei cittadini non ne sapeva niente, non ne voleva sapere, non lo aveva nel proprio DNA. I cattolici, che erano una notevole forza, essendo poi diventato il Papa Pio IX un nemico del Risorgimento, erano tutti decisamente contrari, addirittura i gruppi dirigenti erano stati scomunicati, proto-socialisti, anarchici, repubblicani, così ponevano delle pregiudiziali per cui erano ancora più contrari dei cattolici. L'intera sinistra del Paese era contrario. Gran parte delle popolazioni annesse, proprio per il modo in cui furono annesse, parlo per esempio dell'Italia meridionale, erano più che contrari. Per cui se noi avessimo dovuto fare un conto, nel 1861, quando in marzo nacque il nostro Stato unitario, praticamente l'intera Italia o era indifferente o era contraria. Fu figlio del nostro Risorgimento, il facimento dell'unità d'Italia, di cui, a chiarire ogni equivoco, io mi sento erede, sono contento che l'Italia sia stata fatta, ma obiettività mi impone dire che fu fatta nell'indifferenza e per molti versi contro gli italiani. Mazzini, per dire, una delle persone che noi onoriamo di più, odiava il modo in cui era stata fatta l'Italia, la seguì da prigioniero politico, incarcerato e dovette morire qualche anno dopo la presa di Roma nel 1870 che guardò con ostilità per il modo sotto falso nome a Pisa. Garibaldi, un altro mito, si era ritirato in esilio a Caprera anche lui per ostilità con quello che era successo nel regno delle due Sicilie dopo che l'aveva conquistato. Cavour, come voi sapete, morì nel 1861, due o tre mesi prima due o tre mesi dopo che fosse fatta l'Unità e ciò che era rimasto, è curioso vedere la storia d'Italia, ciò che era rimasto allociato dei puntini perché anche allora, come adesso, c'era questo refrain che poi è durato durante tutti i 150 anni dall'Unità d'Italia, i politici che ci hanno preceduto, questi qua fanno schifo, sono una massa di schifosi che pensano solo a mettersi d'accordo con loro, ruberie che c'erano, ci furono già alla fine degli anni sessanta, parlo sempre dell'ottocento, insomma fecero sì che i gruppi dirigenti che avevano fatto l'Unità d'Italia per i migliori attivi che vi ho detto erano malsicuri, non si fidavano di loro stessi, sapevano di non godere di un consenso generalizzato. Per fortuna all'epoca votava un 2% della popolazione e quindi si riusciva ad aggiustare i collegi e la capacità di dividersi come già tutti i paesi più civili stavano facendo, in destra e sinistra, come vi ho detto prima, che si davano il cambio e che cominciavano a sviluppare una logica dell'alternanza, a rispettarsi, in qualche modo anche a capire l'uno e le ragioni dell'altro per noi erano proibite. Per noi la legge fu fin dall'inizio mettiamoci tutti insieme, la pulsione fu quella di mettersi tutti insieme e così si andò avanti per 150 anni, il nostro è stato l'ultimo paese dell'orbe terracque, l'ultimo tenendo la mente a conoscere l'alternanza per via democratica, cioè che si vota e una volta vanno al potere gli uni, poi dopo 5 anni si rivolta e vanno al potere gli altri. Fino alla fine degli anni 90 e all'inizio del 2000 noi questa cosa non l'abbiamo mai conosciuta e che cosa abbiamo conosciuto? Una pulsione a stare tutti insieme, odiandosi, provate voi a mettere tutte le persone anche che amate di più dentro una stanza dove sono obbligati a stare insieme sviluppando odi, tossine, lotte non esplicite ma fatte sotto banco e creando ogni volta un regime, creando regimi che si sono alternati l'uno all'altro e ogni vent'anni questi regimi saltavano per aria. Saltavano per aria solo per citare i modi in cui sono saltati per aria nel nostro secolo, quello dove siamo nati e dove abbiamo vissuto una parte della nostra vita, fu un modo di saltare per aria il 22 la marcia su Roma, l'avvento del fascismo, non voglio calcolare ma fu un modo di saltare per aria anche la caduta del fascismo, le modalità in cui avvenne la caduta del fascismo il 25 luglio del 1943, fu un modo di saltare per aria a metà di una fase di regime, il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro nel 1978, inutile che vi dica che fu un modo di saltare per aria nel 1992-93, mani pulite e abbiamo conosciuto solo regimi che a un certo punto subivano infarti e quando abbiamo vissuto la prima stagione in cui vivevamo l'alternanza per via elettorale, quella che vi dicevo prima, abbiamo inserito dentro questa ragione, io non entro nel merito inutile che ci rimettiamo a discutere di Berlusconi, Berlusconi sì o Berlusconi no, sicuramente Berlusconi aveva delle anomalie ma lo abbiamo vissuto con un tipo di partecipazione che non era quella che ci abituava a tenere quel modo di darci l'alternanza per sempre, sia da parte del centro-destra sia da parte del centro-sinistra abbiamo messo un di più di passionalità come a dire che contro di lui non bastava il ricorso al voto ma contro di lui Berlusconi ma anche contro le sinistre, vedi la vicenda della compra dei senatori ma ci vorrevano dei colpi sleali, dei colpi fuori sistema con il risultato che anche quel sistema che comunque rappresentava un passo avanti, quello della seconda repubblica, quello della sera del voto che si sapeva chi aveva vinto e che avrebbe governato, anche quel sistema gli abbiamo dato un abbondante calcio negli stinchi o peggio, ce ne siamo liberati e ci siamo rimessi la storia di quei 150 anni di cui vi ho detto ce la siamo rimessa nelle nostre vene, nelle nostre arterie e abbiamo ricominciato lungo quei sentieri. Quindi morale di questa favola, io la faccio breve perché mi sono impegnato con il professor Sabatini che terrà una relazione e ve la ricorderete per tutta la vita e quindi aspettate, non muovetevi, sarà quello il pezzo forte, io sono una specie di antipasto e vi dicevo, morale di questa favola, quello che voi ascolterete e vedrete in questi giorni è qualcosa, ha di destinato a durare perché almeno nella prima repubblica c'era una lunga preparazione al corso che il proporzionale imponeva dello stare insieme, i partiti capivano e avevano immedesimato le ragioni per cui arrivavano a fare certe scelte, faccio un esempio per tutti, il percorso per cui il partito socialista italiano si staccò dal partito comunista italiano con cui era stato legato alle elezioni del 18 aprile del 1948 da un legame di fronte popolare e si avvicinò alla democrazia cristiana con cui avrebbe costruito i governi di centro-sinista, quel percorso durò dieci anni, più o meno dal 1953 dalla morte di Stalin al dicembre del 1963 quando i socialisti entrarono nel governo e anche il compromesso storico che fu quei governi di unità nazionale traballanti perché poi mortificati a metà strada dal rapimento dell'uccisione di Moro, anche quelli avevano una preparazione teorica, dottrinale, il corpo del partito comunista era stato educato a quell'incontro e ancorché lo discutesse in quel momento sapeva cosa stava facendo, adesso non sarà così, quindi non abbiate troppa rabbia nell'ascoltare quei telegiornali perché dovremmo fare allenamento nel senso che qualsiasi cosa succeda, qualsiasi modo in cui i partiti di adesso o le coalizioni e adesso trovino un accordo sarà un modo drammatico, sarà un modo non facile perché personaggi, personalità che vengono da una tradizione in cui ostentatamente non si sono stimate, ostentatamente non si sono apprezzate, ostentatamente si sono additate come destinatari della galera, della prigione, mettersi insieme comporta, prima che siano diluite, una serie di riserve mentali che faranno appenare, fare il governo ammesso che si riesca a fare sarà il primo passo ma i dolori verranno ancora dopo, ammesso sempre che si riesca a fare, d'altra parte non si potrà forse andare a elezioni anticipate per cui ci troviamo un intoppo unico molto diverso dall'intoppo tedesco quando scriviamo o diciamo che è uguale alla Germania o alla Spagna dove ci sono stati problemi di questo tipo mentiamo perché lì una preparazione ai possibili esiti c'è stata, una preparazione culturale qui non c'è stata e le ricette e le soluzioni sono ricette e soluzioni avventurose che non tengono tutte le considerazioni in ordine e insomma ne vedremo delle belle. Questo è l'ottavo anno del vostro festival, io mi candido ad essere qui per i festeggiamenti del decimo, se ai festeggiamenti sarà una grande festa perché l'ho visto crescere sarà veramente una grande festa, se ai festeggiamenti del decimo parlerò delle stesse identiche cose perché continuerò a scriverne, a occuparmene sia pure solo come osservatore e come storico, saremo fuori, avremo messo un piede fuori da questa crisi, beh lo champagne per il festeggiamento lo metto io, grazie. Speriamo di festeggiare il decimo anno con lo champagne offerto da Paolo Mieli e se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda abbiamo un po' di tempo a disposizione. Scusa, microfono. Ce buongiorno. ... ... ... Perché lo so, come sapevo, il momento di svolta non è stata la legge elettorale, io mi sono pronunciato durissimamente contro questa legge elettorale per altri motivi, ma il momento in cui abbiamo tutti scelto è stato il referendum, nel referendum si votava per due modelli, uno che continuava sulla via precedente, anzi apportando delle correzioni, l'abolizione del Senato, una legge a cui era collegato, una legge elettorale iper maggioritaria con il doppio turno e l'altro era il ritorno alla proporzionale, non c'era altra via, in più due sentenze della Corte Costituzionale ci hanno rimesso su quel terreno. Il ritorno alla proporzionale, quindi sostanzialmente il ritorno alla Prima Repubblica, è quello a cui stiamo assistendo e sarà difficile tornare alla Prima Repubblica. Io non do un giudizio, io anzi lo ricordo ottimo della Prima Repubblica per quello che mi riguarda, ma è come un matrimonio. Voi pensate, le signore pensino a un primo marito, a un certo punto decisero consensualmente, senza tanti drammi, di separarsi e passare a un secondo matrimonio, un secondo marito. Poi questo secondo matrimonio a un certo momento non andava bene e hanno pensato di fare un passo ulteriore, prendersi un terzo marito o rifondare questo matrimonio. Ma mentre stavano compiendo questa operazione per un inciampo, per un odio, per una litigata, si sono ritrovate al primo matrimonio. Lì per lì hanno detto, beh ma tutto sommato il primo matrimonio era bello, aveva degli aspetti, però io vi dico provate a farlo nel privato. E vedete che cos'è, una cosa che una su mille può presentarsi, perché poi nel frattempo il mondo è cambiato e già questo fastidio da cui sono partito, quello di aprire il telegiornale e vedere che dopo 50-60 giorni dicono sempre le stesse cose, stanno da capo a 12, già questo fastidio ve la dice lunga, perché altro che 60 giorni, ove mai si riuscesse a fare questo fantomatico governo di cui si parla, fatto dal PD e dai 5 Stelle che è l'unico sul terreno, quando sentirete annunciare che il governo è stato fatto siete solo all'inizio, perché sarà dura, nel senso che nessuno di voi, né elettori dei 5 Stelle, né elettori del PD, né elettori del centrodestra è preparato a una prospettiva simile, non ha i meccanismi dentro, non ha ciò che funziona e quindi sarà problematico, sarà complicato, anche perché poi vi accorgerete, cioè ci accorgeremo, poi inutile che dico vi, perché parlo a me stesso, che essendoci un turno di elezioni ogni mese e poi l'anno prossimo ci saranno le elezioni europee, non avremo neanche il tempo di respirare e subito dovremmo trarre delle conclusioni e quelle conclusioni influiranno sulla stabilità. Guardi, io ho detto due anni perché qui il festival del decennale è fra due anni, ma in realtà penso che prima di brindare davvero, e lo champagne lo pago comunque, ma prima di brindare davvero di anni ce ne vorranno più di due, ci siamo cacciati in una situazione, però lei parlava da piccolo imprenditore, non vi preoccupate, l'Italia ha questa cosa di magica, ce l'hanno anche altri paesi che andrà avanti, patirà per il modo in cui è amministrata la cosa pubblica, ma la corsia per cui il paese procede, quella penso, anzi mi auguro, che nessuno vorrà costruirla. Grazie. Signore sulla sinistra, no, qua, seconda fila a sinistra. Sì, lei ha detto che l'Italia non ha mai imparato o ha disimparato velocemente la democrazia dell'alternanza, però da un lato mi sembra intanto che sia un po' in crisi anche nel resto del mondo, cioè mi sembra che oggi l'alternanza sia non più nel mondo in generale tra una destra e una sinistra, un mondo democratico, uno conservatore o liberale e conservatore, ma fra insider e outsider, fra sistema e antisistema, negli stessi Stati Uniti ha vinto un repubblicano contro i repubblicani, di fatto, Trump non è stato sostanzialmente sostenuto dai repubblicani classici che forse persino avrebbero preferito la vittoria della Clinton. Quindi mi sembra che, oppure l'est Europa che rappresenta il mondo contro il sistema occidental, quindi mi sembra che si sia andando verso una frattura molto diversa tra quella storica, tra una destra e una sinistra moderate, responsabili, che si avvicinano al centro e in questo contesto ci colloca anche l'Italia in maniera un pochino diversa dagli altri. Poi mi sembra invece che in Italia ci sia una frattura nettissima nord-sud, culturale, economica, anche elettorale, che l'abbiamo vista, forse deriva anche da quelle ragioni storiche che lei ha detto all'inizio. Economica clamorosamente evidente, insomma, con un nord che va verso l'Europa e un sud che sembra sempre più staccarsi. Grazie. Grazie, lei ha ragione, però diverso è la situazione di tutti gli altri paesi dove questa crisi viene vissuta come un'eccezione, ma hanno già nel DNA i cromosomi dell'alternanza e quindi possono sopportare per un periodo, per una fase non lunghissima, possono sopportare quello di cui stiamo dicendo. Vedete, per esempio la Germania ha governi di grande coalizione, già da, stiamo al quarto governo di Angela Merkel e conobbe la grosse coalizione anche fra il 1966 e il 69. Insomma, per dei periodi se tu l'hai introiettato lo puoi sopportare. Il guaio è che in Italia ho la sensazione che non fosse sufficiente il periodo in cui ne avevamo fatto uso perché guardate, quando rifletteremo e racconteremo la vera storia del ventennio cosiddetto berlusconiano, sarà molto interessante raccontarla perché voi lo sapete perché sapete far di conto, nel ventennio berlusconiano che siamo abituati, pur avendo Berlusconi i difetti che aveva, ma per nove anni ha governato Berlusconi, per undici i suoi avversari e quindi noi lo chiamiamo, il ventennio berlusconiano è una forzatura perché, insomma, per quanto avesse le televisioni, il giornale, il panorama o non so che altro, nove, undici. Quando noi ce ne occuperemo come storici di questa cifra, nove, undici dovremo far conto. E comunque avevamo guadagnato che una volta vinceva l'uno, una volta vinceva l'altro e ci si diava il cambio. Averlo perso e non avere una prospettiva in cui riguadagneremo questa cosa significherà che a differenza di tutti gli altri paesi dove lei ha ragione, questo meccanismo è in crisi, noi non abbiamo la prospettiva di tornare a quel ricambio. Se poi quel ricambio si porterà fra partiti sistema o partiti antisistema, uguale, l'importante è l'alternanza, è che c'è uno che governa una volta e viene scalzato la volta successiva. Io sono innamorato come lei probabilmente della categoria del centro-destra e del centro-dista, ma non me ne importa niente, l'alternanza è fisiologicamente buona di per sé anche quando riserva delle sorprese come è l'America di Trump, l'abbiamo accolta pensando che fosse il tracollo dell'umanità e oggi siamo lì che spesso ci capita di dover riconoscere, pur, almeno per quello che mi riguarda, condannando l'uomo, il modello, ciò che si porta dietro, ma di riconoscere che sulla Corea ha avuto dei successi e anche su altre cose che gli altri suoi predecessori non avevano conosciuto. Infine lei mi ha fatto tre domande con abilità in una, il problema del nord e del sud è il problema più drammatico di cui in questi giorni non si parlerà perché stiamo tutti lì a facilitare l'incontro di quei disgraziati dei democratici con i 5 Stelle, però quando nascerà il governo dei democratici con i 5 Stelle vi è chiaro di quale parte d'Italia stiamo parlando, è una parte per cui Foligno è come se fosse Stoccolma, per il resto, che dico Stoccolma, la capitale dell'Islanda, per il resto è Meridione, sussidi di generosità, non lo voglio neanche sentire quel nome, sussidi a tutto spiano, spesa e con il nord all'opposizione. Sarà un elemento in più che ci farà soffrire, però adesso per carità di padre secondo un governo lo dobbiamo avere, abbiamo anche dei parlamentari del PD, andate, andateli, buttatevi nelle fauci di quei signori e vedete voi, cercate di fare per il meglio e io il suggerimento che do, l'ho dato più volte pubblicamente, se volete fare andateci, votate, non prendete neanche una poltrona, guardate non prendete neanche una poltrona perché se voi andate là e vi ripresentate con le auto blu, sottosegretario, presidente di commissione, ministro, posti, voi non sapete, quello è il danno mortale perché si capirà che voi lo travestite, vi ammantate, che lo fate per la patria, ma il fatto di non esservi mai più presentati da non so qualche anno senza quelle auto blu, senza quelle greche, è la vostra immagine, è quella che vi ha fatto perdere centinaia di migliaia e forse anche milioni di consensi, quindi provatelo, fate per la patria, fatelo gratis, grazie. C'è un signore là. Sì, abbiamo spazio per l'ultima domanda. Se alza la mano lo vedono meglio. Grazie, volevo sapere da lei, e secondo lei perché gli italiani sono così conservatori che hanno sempre paura di cambiare? Nel corso degli anni si dicono di centrodestra o di centrosinistra, ma in realtà all'atto del cambiamento si bloccano tutte le situazioni. perché noi abbiamo fatto il nostro Stato unitario, la cosa di cui ho parlato all'inizio, con una grande insicurezza di fondo. Facciamo finta che siamo io e lei, siamo io e voi. Noi lo sapevamo, quando si legge la letteratura, gli scambi epistolari di quegli anni, loro lo sapevano che fingevano che ci fosse un'alimentazione di consenso che non c'era nel paese, era tutto posticcio e quindi temevamo che a cambiare, a dividerci, a stare una volta, quelli che ci rimettevano dal cambiamento, nell'alternanza finivano occasionalmente all'opposizione, si mandassero con questo sentimento di indifferenza o peggio ostilità al facimento dello Stato unitario e mandassero tutto a monte. Per cui elaborarono una teoria che poi è stata l'origine, il trasformismo di tutto quello che è venuto dopo, che era meglio stare insieme, mettersi insieme e difendere quel poco che si era fatto, perché se ci si divideva la parte divisa e soccombente avrebbe avuto la tentazione di dare un calcio al tavolo e mandare all'aria tutto il percorso unitario. L'Italia ha avuto il terrore, in realtà ce l'ha avuta ancora quelli un po' più adulti di voi, si ricorderanno che 25 anni fa quando si presentò la Lega, l'idea che sfasciassero il paese, che l'Italia si dividesse, un po' perché loro dicevano, ma era chiaro che essendo loro, avendo delle proporzioni ben diverse da quelle che hanno oggi i Cinque Stelle, rappresentavano un quinto, un sesto dei Cinque Stelle, non stavano in cielo né in terra, che dividessero il paese, ma venivano fuori quelle paure ancestrali che tutto si sarebbe sfasciato, che tutto sarebbe stato mandato a monte e queste sono paure per metà autentiche e per metà tirate fuori ogni volta per giustificare questo, mettersi tutto insieme e trarre dei guadagni dallo stare tutto insieme, perché voi capite che un ceto che sta sempre tutto insieme ed elabora la teoria dello stare tutto insieme praticamente dal potere non verrà mai scalzato, o di Riffo o di Raffa saranno nomi che si ripresenteranno. C'è voluto il 1992-1994 per provocare un grande cambio di sistema e un cambiamento delle facce e anche quelle, le facce che noi abbiamo viste nei 25 anni successivi, non ci fosse stato questo risultato elettorale che giudico un ennesimo infarto di sistema, avrebbero continuato in eterno a essere sempre sempre le stesse. Quindi il conservatorismo ancestrale va di bene, ognuno guardando dentro di sé lo potrà riconoscere, il conservatorismo che abbiamo tutti noi, quello di dire che corriamo rischi epocali a ogni stormier di fronda, ci sono dei rischi che noi denunciamo in maniera sproporzionata, ci sono delle cose gravissime, ma veramente gravi, che hanno il mio vituperio tipo delle manifestazioni di Casa Pound. Poi vedo che noi sul giornale le annunciamo come se fosse la nuova marcia su Roma, il ritorno del fascismo, non sappiamo misurare le parole perché un conto è dire che qualche gruppo si muove ed è razzista, fanno delle cose orribili che vanno presi o ciuffati, messi a processo e condannati, ma un conto è presentarli ogni volta come se stessimo in un momento d'allarme epocale che stesse per tornare un regime fascista o peggio nazista. Quando ci scatta quel tic è qualcosa di noi che dice, non qualcosa del nostro grado di osservazione sulla società. Le società sane sono società che sanno affrontare anche cambiamenti traumatici, pensate cosa è successo negli Stati Uniti al momento dell'elezione di Trump, si fa un po' di chiasso al ridosso ma poi lo si accetta e ci si prepara a batterlo alle prossime elezioni. Così vivono le società sane, non sono società che cercano di mettere Trump fuori legge con qualche sgambetto o qualche metodo illecito. Vince chi è capace di raccogliere il consenso alle elezioni successive per vincere. Punto e basta. Grazie. Bene, ringraziamo Paolo Mieli per le sue... Ci sono delle mani alzate, ma tanto detto che ritorno, non vi preoccupate... Non possiamo più andare avanti. E purtroppo per voi, anche purtroppo per me, tornerò e staremo al punto di partenza, quindi le domande fatte stasera, fatte fra un anno o due, purtroppo varranno lo stesso e io vi giuro che mi impegnerò. Grazie e state tutti per ascoltare il professor Sabatini. L'uscita per chi ha prenotato può rimanere al suo posto, gli altri che non hanno prenotato dovrebbero uscire dalla porta alla sinistra, qui alla mia sinistra. Grazie.